Cogliere la relazione tra risentimento e paura è un po' più complesso, non è così intuitivo, quindi oggi ci dobbiamo applicare un po' di più. Il risentimento sta alla rabbia come la cenere, la braccia che cova sotto la cenere sta al fuoco che divampa. Il risentimento è qualche cosa che sentiamo di nuovo e che impedisce il sentimento, ostacola, blocca il nostro cuore, potremmo dire. E che cosa abbiamo paura di sentire di nuovo? Il dolore. E che cosa c'è dietro il dolore? La paura di provare il dolore. Quindi scendendo lungo la via in giù, vediamo che il risentimento nasconde la rabbia, la rabbia nasconde il dolore, il dolore nasconde la paura. E il risentimento, se non si esprime nella rabbia, cioè nel dire le cose che vanno dette, se non viene visto nel suo versante di dolore, di paura del dolore, rimane qualche cosa che pervade, subdo la mente e abbassa il nostro livello di energia, riduce il nostro eros, ci fa essere tristi, depressi. Quindi anche la tristezza, la depressione, il romanticismo, quella dipendenza affettiva, emotiva. Tutto quanto in qualche modo è connesso con questo risentimento per la paura di riprovare il tradimento, la sofferenza, l'abbandono, le ferite. Per cui ancora una volta, se noi vogliamo imparare ad amare davvero, ad abbandonarci ai sentimenti, dobbiamo superare il risentimento. Ma il risentimento non lo superi, cercare di perdonare, per esempio. Perdonare cosa? E che cosa nutre questo bisogno di perdono? E come fai a perdonare se ancora hai paura che succeda di nuovo? E se hai paura che succeda di nuovo, devi arrivare lì a renderti conto di quanto la paura ti sta, l'oscura signora ti sta ancora influenzando. E allora arrivi a scoprire l'antidoto della paura e quindi dei risentimenti, quindi la incapacità di rimare. L'antidoto è la fiducia. L'antidoto è renderti conto che non è più come allora, perché il risentimento ti fa sentire come allora e quindi ti fa tornare ad essere come era allora. Ma nel frattempo tu sei cambiata, cambiato, sei cresciuto, ti sei risvegliata, ti sei purificata, hai acquisito strumento strumenti e risorse, ma non le vedi, perché il risentimento ti impedisce, metti quella barriera di rabbia più o meno repressa, che ti impedisce di vedere le tue risorse, quindi di diventare self-confident, quindi di avere fiducia nel fatto che potrai affrontare i sentimenti, di avere fiducia, di farti guidare da questa piuttosto che dalla paura. Non ti liberi dal risentimento senza cogliere la paura che ci sta sotto e quindi senza arrivare a renderti conto che puoi avere fiducia in dove sei, in chi sei diventato e diventato, perché quello che ti succede è sempre la cosa che tu puoi affrontare e se allora, se in passato l'hai vissuta con estremo dolore, è stato drammatico, nel frattempo le cose sono cambiate. La fiducia lì che ti aspetta, sotto la brace c'è il fuoco che si può riavvivare, ravvivare e sotto il fuoco che si ravviva c'è l'eros e sotto l'eros c'è la forza, l'energia sufficiente per guardare in faccia la paura e per dire, ah, io non sono te, io non sono te. E quindi farsi guidare dalla fiducia nella nostra possibilità e capacità di amare, sia in senso compassionevole gli altri o gli eventuali diversi da noi, in senso invece di amorevole, amorevole nel senso di carico di sentimento con quelli che sono più affini a noi fino alla nostra anima gemella.